Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli ha rivelato di aver avuto difficoltà a causa di un dolore al costato, scoprendo successivamente di avere una costola rotta. Questo infortunio non sorprende, considerando che almeno un concorrente a edizione sembra destinato a lasciare in pista una o due costole. Recentemente, Sonia è tornata sui social mostrando il referto medico del suo infortunio e chiedendo al maestro Carlo Aloia di continuare a provarci nonostante tutto. Durante la vita in diretta con Alberto Matano, Sonia ha raccontato di essersi rotta a una costola durante una giravolta in puntata. Ha mostrato il referto medico con la frattura evidenziata e ha dichiarato di sentirsi determinata a dare il massimo nonostante l'infortunio. Sonia ha scritto sui social, ma continueremo a provarci, vero Carlo, dimostrando la sua determinazione a non arrendersi. Nonostante la costola rotta, Sonia Bruganelli si impegnerà al massimo per continuare a gareggiare a Ballando con le stelle. La sua forza e determinazione sono evidenti e non si fermerà di fronte alle difficoltà. Tra i giudici severi, la fatica e i dolori al costato, Sonia sarà messa alla prova nelle prossime puntate.